Basta i furti alla cittadella e questo è il grido d'allarme di alcuni studenti del Dipartimento di Ingegneria che lamentano la poca sicurezza all'interno dell'università. Quotidianamente infatti si verificano furti di auto e di motorini o denneggiamento dei mezzi. Tante le segnalazioni pervenute ai consiglieri del Dipartimento che hanno avviato un'indagine per comprendere l'entità del fenomeno. Noi abbiamo ricevuto una prima segnalazione da un collega del corso di Ingegneria e dell'architettura il quale faceva presente che aveva subito il furto della propria auto. Questo chiaramente ci ha messo nelle condizioni di cominciare un'indagine con gli altri colleghi almeno per quello che riguardava i ragazzi dei corsi di Ingegneria. I ragazzi hanno dunque chiesto l'intervento dei senatori accademici. Spesso ormai da un po' di tempo a questa parte si stiamo a un ingresso quasi libero praticamente di persone che possono anche non centrare nulla con l'ambiente universitario che entrano e escono e fanno quello che vogliono e questo non va bene. Abbiamo protocollato una richiesta di potenziamento di questo sistema di sorveglianza all'interno della cittadella e aspettiamo una risposta dagli organi competenti. Ed ecco adesso la testimonianza di uno studente al quale hanno rubato il motorino. Do la lezione di pomeriggio e verso le 5 sono finito e sono andato a prendere la Vespa e non c'era più. Non è la prima volta che rubano qua all'università perché c'è un giro, non lo so se è vero, secondo me sono sempre all'interno dell'università.